Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine nelle serate della Movida, nemmeno ad agosto. Se già la scorsa settimana il sindaco di Pavia Fracassi aveva prorogato fino ad ottobre le ordinanze anti-assembramenti e sugli erari di vendita dell'alcol, nelle ultime ore anche il Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza ha confermato la prosecuzione del servizio di pattugliamento nelle serate del divertimento del capoluogo. Vi saranno però rispetto al recente passato alcune novità. Sarà ridimensionata nello specifico la serata del mercoledì che senza studenti universitari in città non ha registrato anche negli ultimi mesi grandi presenze tra le piazze e le vie del centro storico del capoluogo, come accade invece il venerdì ed il sabato. Le presenze in città del resto complice alla fase di emergenza non sembrano calare particolarmente. Di conseguenza anche per le serate di Movida si conferma la necessità di proseguire con i servizi di controllo delle forze dell'ordine, almeno per i weekend. I servizi di pattugliamento saranno comunque rimodulati di settimana in settimana in base alle esigenze. L'obiettivo resta la prevenzione e la repressione degli episodi violenti che nell'ultimo periodo hanno riguardato con troppa costanza le serate dedicate al divertimento del capoluogo.